Sto parlando piano perché mi viene una cosa in gola. Mio padre mi picchiava perché ero così, mia mamma ha fatto una cosa buona, mi ha messo una casa famiglia, questa cosa è il sociale sociale, saluto il lago di patria, saluto pure l'assistente Anna, la mia amica, che sono un'amica proprio con Anna, l'assistente. Comunque ho pensato tutto e di più, ho bastato. E allora questa cosa mi è venuta in mente per raccontare, questa cosa mi è venuta in mente per raccontare, mi sono proprio detto, mi racconto, lei mi ha dato l'aiuto, mi ha detto vai, non ti preoccupare. No, ma da raccontarsi, devi liberare questi quanti. Perché mi viene una cosa in gola di dire questa cosa, però è una cosa del passato, però io ho superato tutte queste cose, tutti gli ostacoli ho superato. E hai stato a sua famiglia all'Igola? No, al lago di patria. Che facevi là dentro? Stavo con tutti i ragazzi, diciamo. Quanti anni avevi? 14 anni. E perché poi tua madre e tua madre? Perché il problema che c'avevo adesso, che sono diciamo una, avevo una mia, diciamo sono trans, ero gay e mio padre mi ha messo questa casa, poi mia mamma mi ha messo questa e io avevo sempre le botte, ho avuto tutte di più. Mia mamma che mi ha difesa a me, prendeva le mie parti. Come tu prendi le parti del tuo figlio, no? Così è. E ogni mamma prende le parti del figlio. Perciò io ho superato queste cose, quando uno mi dice qualcosa, attacco su questo. Quanto tempo sei stato nella casa famiglia? Eh, poi ho fatto 18 anni e ho detto tutto il resto, poi sono andato. E poi che hai fatto a 18 anni e come sei uscito là dì? Ah, sono andato a casa mia, sono andato, sono la casa mia. Come il tuo padre? Eh, sì, mamma. E come sei uscito? Sembra lo stesso, così come sei? Eh, sì, sì, sì. E il tuo padre ti ha accettato? Poi mia mamma ha fatto tutte le cose, cioè, quando mio figlio è così, c'è, tu devi farla, c'è, fatti di là e sta a peggiocare le cose. Perciò io supero le cose, alle volte, persone, quando mi dicono le cose, io attacco perché sono sulla cotta della vita, sulla pelle sono sulla cotta. Eh, però non ti puoi prendere il pezzotto. No, le pezzotto non me lo prende come se vuoi. allora tu una cosa ti ambaracchi non ti devi fare prendere da papà quando ti appiccio con qui ti riesci ti lasciare non fare niente così non lo pensare che ti riesci a fare con il sorriso caccio il sorriso perché che cosa cosa ti fai nel possibile che cosa ci fai perché sa che lei va in breve e non voglio essere toccato ti riesci a fare che faccio con qui eeeh dopo la conferenza mazza roba che cosa ti piace con qui scopi di casa mazza no no si 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 che cosa ti piace però lei ci piace pazzia con qui ora mi sono diventata una cosa in casa amico con i miei figli e lei tenendo la competenza i miei figli si vanno a lavare pure nel bagno non si mettono neanche scuola perché purtroppo è un problema in casa nostra ci vive cioè viene l'ottomattina e se ne vai sei setta sera e se ne vai sei setta in casa non si non si che cosa c'è l'ottomattina è Grazie a tutti.